Al 3 e all'8 di giugno si fa la settimana dello scolaro a Raffadali. Noi iniziamo giorno 3 con un momento di approfondimento didattico, rivolte ai docenti, dopodiché si inizia la rassegna vera e propria, prima di aver ricordato Nina Aurelio Cuffaro, che è stato promotore e ideatore della settimana dello scolaro a Raffadali e che è stato per anni assessore alla cultura di questo paese e vogliamo, nel rilanciare la settimana dello scolaro, ricordare proprio la figura di chi ne è stato da questo punto di vista l'artefice. Dal 4 all'8, il villaggio della Gioventù, la nostra splendida struttura, sarà la cornice di rappresentazioni di teatro, di danza, di musica, di ginnastica da parte delle diverse scuole della provincia. Raffadali diventa occasione di incontro di decine di scuole della provincia di Grigento, una programmazione che parte dal mese di febbraio attraverso e in collaborazione col provveditorato, le scuole hanno preparato delle rappresentazioni da portare nel paese di Raffadali, diventa l'occasione per tanti bambini di esprimere le loro proprie capacità artistiche, le scuole di far vedere le loro capacità didattiche e quello che sono riusciti a fare nel corso dell'anno, diventa l'occasione perché docenti di paesi e di scuole diverse si incontrano, si conoscano e mettono come dire in rete le loro capacità, ma anche per tanti bambini di fare amicizia, di conoscersi ed avere anche la soddisfazione di vedere finalizzati gli sforzi di un intero anno scolastico. Abbiamo voluto aprire la rassegna proprio con un convegno per addetti ai lavori e parlare di competenze, perché oggi non si può fare a meno di cambiare il modo di insegnare, di cominciare a pensare, a progettare per competenze, è quello a cui le scuole mirano e quindi ai traguardi formativi, per cui non basta più trasmettere conoscenza, ma ecco, mirare che l'alunno, che è la centralità del nostro percorso educativo-didattico, sappia non solo il sapere, ma il saper fare. Per questo ringraziamo il patrocinio che l'AMBE ci ha dato, la formatrice dell'AMBE, la dottoressa Maria Luisa Giordani, che farà questo convegno proprio sulla didattica per competenze e linguaggi espressivi, visto che la rassegna appunto parla di teatro, di musica e di arte. I linguaggi espressivi diventano anche un mezzo molto valido per far raggiungere le competenze trasversalmente a tutte le discipline.